Abbiamo un gradito ritorno. Chi è? Alessandro D'Acrissa, che è un bravissimo tenore, che abbiamo già ospitato. Che abbiamo già ospitato e che vi speriamo molto, ma molto benvenuti. Bentornato Alessandro, grazie di essere qua. Bene, Alessandro, Alessandro, va in tante trasmissioni adesso. Siamo stati lieti, insomma, di averlo, come dire, di averlo ospitato. Non dico per primi, eravamo i primi? I secondi. I secondi, insomma, siamo, eh? Adesso. Però lui non si dimentica e quindi torna anche tra noi, che abbiamo i centomila, i duecentomila, i trecentomila telespettatori. Magari lui adesso ne abbia milioni. E quindi lo ringraziamo di questo gesto reciproco di umanità. Bene. Voglio farvi un regalo, spero sia gradito, di una serenata romana che ho conosciuto adesso, ho imparato adesso, che mi ha dato tantissime emozioni. Volevo condividerle con voi. Bene, dai. A faccia te non sia a cuore adorato Che sta nottata in vita a fa' l'amore Per cielo e tutto quanto imbrillantato La luna manna sfasci lo sprenore E tira un venticello torce, torce Che fa smovere le fronne ad agio, ad agio A quando a malappena che le storce E fai appiccicare tra loro un bacio A faccia te non sia a cuore ad agio A faccia te non sia a cuore ad agio Boccuccia de cerasa A faccia te non sia a cuore ad agio Boccuccia de cerasa Bocciccia de cerasa Drago la insuccherata Fatte vedere lassù, lassù Grazie Gillo, grazie a voi Bene, allora